C'entra ancora questo? No. No? Non lo so. C'entra bene. Zero. Zero. Yeah, that's one tree. Daddy, want to explain what happened to the door. Yeah. Daddy, I want you to tell you that if you find it like this, you have to put it back like this, not like you won. Like this, mommy. Because mommy spend one morning... One hour. No, one more orange. Yes, they are sorted by size. There are only two sizes. It's a brand new day. It's a brand new vlog, guys. The day is almost finished. The day is almost finished. The video is over. Thank you very much for watching. See you tomorrow. No, guys. She is joking. Ow, ow, ow. You're joking, right? No, I'm not. Huh? Good morning. Happy Sunday, everybody. Oh, it's pulling my hair. Happy Sunday. It's actually afternoon now. Almost. What time is it? 4 o'clock. 3.30. Almost 4 o'clock. Can I kick your jacket? Late na kaming mag-vlog today kasi. Sunday, it's not a vlog. It's not a vlog day. Second. Usually, it's not a vlog day. Which one we use for jacket? One. One. The other one is still not? This is big. Okay. The one? The one? The one? The one? The one or the one? The one. The two is a vlog. The one. It's 15. How much? Look, look. It's a vlog. Yeah, so, I'm saying, guys. It's a... Sunday is not a vlog day but... that's okay. We've vloged. Allora, siamo arrivati, siamo venuti con Lola e Dylan. Lola e Nancy. Allora, siamo venuti a questo giorno, perché non si è venuto. Allora, siamo venuti a questo giorno. È venuto a questo giorno. Non lo so, non lo so. Alcune di un'altro, sono venuti a questo giorno. sora di nuovo. Il nostro canale che quando avessi stato fatto, non sono ancora ancora, non sono ancora ancora. Non c'è la cedera. Andi, non c'è la cedera, ma non c'è la cedera. Non ho quello che è stato fatto, perché, non ho fatto la cedera, non ho fatto che, non ho fatto il Covid, perché non ho fatto tutto, non ho fatto tutto, non ho fatto tutto. 1... 1 day lang si è snow Let's go ahhh I think you, 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 you close too much sorry I always forgot this doesn't have the one that stopped it like Dylan ,so, puntano kami guys a lolo, lola, ni Nancy per i-tuloy ang aming switch nadadalino ko bukas para sa studio yan, si Dylan, lameg na lameg guys super lameg 6 grad Lammig! 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 Nancy's driving because she's driving because she's driving Happy Sunday again, guys. Anong clip nato'y Sunday? Today, rainy days. Dito sa aming lugar, maulan Maybe Maybe A little bit but still wait Try 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 Iikot kami ng isang ikot tignan natin kung makakatulog Kung makakatulog ang baby Ayan Already sleeping No, no No, no Still still Ayan guys It's Dr. Maulan Maulan today Kaya walang magawa Sa bahay lang kami kanina umaga Pagkising namin After mag-breakfast Balik ulit sa kawa Sinansiad nila ako nag-edit ako Let's say New Zealand Baby slept We slept a bit After lunch Ayan Ngayon puta kami na ng Lola Inga Le vi Take this Thank you, si Hey, Ring Pudding Pudding alcohol Hmm? Niente. Niente Questa per me Questa per ti Si E un'altra? Si Ecco Tutto one Non mi piace Se tu vedi Quella Alla Cermane C'è una regolasse con questo, tu piglia la roba, tu vedi Germania che pezzo, faccia cosa più possibile. Buongiorno o buongiorno? Mi ha detto qui, ma è un bel giugno, ma è un bel giugno, ma è un bel giugno! Sì? Sai, no! No, 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 no. per due giorni uno per te, uno per noi no, per due giorni no, per due giorni due giorni due giorni ok, abbiamo già registrato abbiamo già usato abbiamo già usato è proprio la prima volta che abbiamo per film è proprio la prima volta oggi è il giorno è il giorno ora abbiamo già fatto è il giorno è l'anno inizio inizio adesso ho registrato e ora ho registrato inizio qui si Dylan è il giorno è stato stato questo cosa ti chiede ah, ragazzi io ho abbiamo anche il giorno di Dilla e poi con Tinsetta per essere un po' professional Ah, questo è solo il colore? Si Supposed to be green ma non credo che sia green Supposed to be green Anyway Do you want to say che è sweet? Si Non ho visto i dettagli ma non è come si è fatto come si è fatto come le baccheri perché le mesurazioni sono fatto con le spoons E' ok Io solo seguo quello che mia nonna mi ha detto L'anno l'anno ho provato ho provato come fare le cose I ho provato ma non mi piace ma non mi piace quindi torniamo alla nostra stagione E se hai lavorato con te e la mia mamma è sempre tradizionale che è vero e io ho detto no no ma non mi seguirei ma non mi seguirei ma è un studente ma è buono ma è buono è un progetto ma non mi seguirei non mi seguirei ma non mi seguirei questo tipo di cose, quindi se si cambiate qualcosa, si non lo so. Nona piace a bake, non si. Io ho iniziato a fare cose per lei, e lei sempre diceva, io ho frito questo viet, vuoi venire? Mi vuoi fare queste cose, vuoi venire? E io ho iniziato a fare questo, e io ho iniziato a fare questo. Quindi è bello, sono davvero bacheco. Io ho iniziato a fare questo. Credo che dovrebbe cambiare il calendario, è ancora in genio. Grazie a tutti il nostro obiettivo è stato il chance per dire il nostro obiettivo per dire il nostro obiettivo ma prima di dire il nostro obiettivo è stato proprio guarda il vlog per aver guardato il vlog prima di ero prima di ero è buono è buono è buono è buono è buono è buono siamo qui siamo arrivati abbiamo bisogno di riuscire abbiamo bisogno di riuscire abbiamo bisogno di riuscire perché è il mio rio è buono il mio di riuscire il nostro riuscire quindi è siamo qui abbiamo bisogno di riuscire abbiamo bisogno di riuscire abbiamo bisogno di riuscire ora è Grazie a tutti. qui qui è l'amico l'angelo 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 quindi 7.17 Ano? Questo è proprio pronto perché è vero. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla. Let's go. Ok, questo è proprio qui. Non c'è nulla, non c'è nulla. E poi si può fare un'acqua e poi poteriamo. No, non c'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla perché bisogna fare un'acqua. E bisogna fare un'acqua. Non c'è nulla. Il tutto. Il tutto. Il tutto. L'allia, ferniure, lights, bed, table for my editing, everything. Baiting stuff. Kitchen, the whole kitchen, the whole sofa, the whole bedroom. Ah. Basically everything. And this to paint first, as you can see guys, it's like it's abandoned. And then you need to clean it. Because the family was there before. They had a baby, and they paid the baby. They let him write in the room. Like, you see there's a drawing, they let him write. It's a two years old baby, so it doesn't really paint. But the outside is newly painted. The outside is newly painted. And guys, so, watch out this one. Follow this story. I think you will like how we will do it. Because we will vlog almost everything. We buy these things. Everything. So, you will know how much it cost. Things. You will know gaano kahilap bumili, gaano kadali bumili. So, antabayanan yan guys. Excited na rin. Excited na kami ni Nancy. Especially, Nancy excited for the kitchen. Yeah. Today, I think all day she's looking. What kitchen? Better. And the sofas. Yeah. There's a lot of screenshots. May guys, kung nakita nyo yung garage na may fart taste dyan. Yan gagawin kong office studio yan. Parang gagawin naming artistic side. We do everything there. Shooting. Maybe Nancy will bake something. We shoot there. Photo, etc. Yan. Nagawin naming magandang studio yan. Yes. Yan guys. So, late na rin. So, see you tomorrow na lang. On the next vlog. Ah. Yeah. Tomorrow I will bring the beaches. The beaches. The beach. In the studio. Because they asked me some fried stuff. But guys, I don't fried. Yeah. Some against fried. Yeah. Daling ko yan. Pasalubong ko sa studio bukas. Ang gawin niya. Yan. Good night guys. And good morning. To the Philippines. Good night. Europe. I hope it's a good night. Yeah. And tomorrow we have good news. I hope. About the war. I hope it's finished. Stop the war. Stop the shit. Stop. Good night guys. Dilan it's a... Ah. Yeah. It's a bit away. Wanda. See. Look. It's a bit away. But sleepy. Yan. Finish niya. 210 ml. Magatas. Yeah. Good night guys. See you tomorrow. Love. Peace. Smile. Nian family. Ciao. horrible. Bye. Please love. I'm in click. This is not if you feel a ditman. Bye. Bye. Grazie a tutti.